Buonasera, da oggi 26 settembre parte la nuova stagione televisiva di Rete Versilia News. Tanta informazione, tutto sull'hockey, calcio, spettacolo. Dopo il rodaggio estivo condito da un'ottima media d'ascolto, grazie alle esclusive del Caffè della Versiliana, l'esclusiva del Pucciniano con il Salotto e le opere integrali, il Capanina Show a Forte Remarmi, Rotocalco Versilia, oggi debutta questo spazio quotidiano diretta a Versilia in onda da lunedì al venerdì con la presenza in studio ogni giorno di un ospite qualificato. Non è la sola novità del nuovo corso dell'emittente via Regina. Il parincesto, con tutti i dettagli, orari, repliche, verrà presentato ufficialmente dai responsabili di Noi TV e Rete Versilia News domenica sera nel corso di una serata al Caffè Liberty, alla presenza degli amministratori, dei partners commerciali che sono importantissimi, le autorità. La nuova stagione della televisione via Regina avrà dunque nuova grafica, nuove rubriche, nuovi appuntamenti, tra cui questo delle 14 in diretta. Da quest'anno Rete Versilia è ancora più social con tutte le nostre produzioni fruibili on demand su YouTube. Tutta la nostra informazione andrà inoltre in diretta su Facebook tramite la pagina di Rete Versilia News che in meno di un anno ha già raggiunto il traguardo dei 5.000 like. Salutiamo subito il nostro ospite, un collega giornalista, Umberto Guidi. Buongiorno Umberto. Buongiorno. E grazie di aver accettato questo nostro invito. Ho detto durante la presentazione che si parla degli argomenti più importanti e vi regge certamente uno degli argomenti più importanti vista la situazione che sta vivendo. è una città ingovernabile. Perché secondo il tuo punto di vista di attento osservatore e poi con la tua esperienza politica alle spalle? Ma se ne abbiamo parlato tante volte, anche a livello amichevole, io qualche volta l'ho anche scritto, Viareggio è una città tendenzialmente ingovernabile. Perché è tendenzialmente ingovernabile? Perché almeno dal 2008 ad oggi, quindi sono più di 8 anni direi, è una città che è soggetta a una forte instabilità politica. Mi spiego. Nel 1993 è stata fatta una legge per l'elezione diretta del sindaco che doveva garantire stabilità. Il sindaco viene eletto direttamente dai cittadini ed è praticamente inamovibile. Perché se cade il sindaco si va a nuove elezioni. Quindi tagliati fuori tutti i giochi dei partiti, ricordate che nella prima repubblica i sindaci duravano 10 mesi, poi si mandavano a casa, si sostituivano, eccetera. Quindi questa legge tendeva a garantire una stabilità. Perché? Perché giocava sul senso di conservazione della classe politica. Cioè i consiglieri avevano solo una mossa per poter mandare a casa il sindaco anzitempo, di mettersi in blocco, però così facendo perdevano il loro scranno e quindi dovevano esserci nuove elezioni. Il legislatore non ha fatto i conti con gli atavici vizi degli italiani e in particolare dei viareggini, dove è insorto questa tecnica di mandare a casa il sindaco di turno regolarmente eletto. Questo naturalmente richiede che un certo numero di consiglieri cambino casacca, cioè passino dalla maggioranza all'opposizione di fatto. Ma questo non è un problema perché il trasformismo, che è un altro male endemico dell'Italia, fin dai tempi dei governi storici dell'Unità d'Italia, non manca certo. Quindi viareggio è un po' la lente d'ingrandimento dei difetti della politica italiana, che come sappiamo sono numerosi. Quindi nel 2008, quando è venuto a compimento il periodo di Marcucci, per dire che è stato un periodo abbastanza stabile, governato con polso fermo e prima ancora c'era stato mi pare Costa, quindi era stato circa un quindicennio di governo abbastanza incontrastato del centro-sinistra, si è aperta una fase nuova in cui c'era una certa resistenza nei confronti del centro-sinistra e di Marcucci e sembravano maturi i tempi per l'alternanza, che del resto è anche il sale della no-democrazia. Quindi uno governa, si logora un pochino, diceva Andreotti che si logora di più chi sta all'opposizione e forse non era torto, però anche chi sta al governo va incontro a una certa usura. E quindi il centro-destra, azzeccando la candidatura di Lunardini, conquistò il Comune. Lunardini aveva una larga maggioranza quando si insedia nel 2008, però non riuscì a compiere il suo mandato amministrativo, tant'è vero che nell'estate del 2014, alcuni dopo aver perso diversi pezzi, allora il Consiglio aveva 30 consiglieri, oggi è una 24, 16 consiglieri dell'opposizione e della ex maggioranza si dimesero in blocco e lo mandarono a casa. Era stato scoperto il giochino che funzionava bene. Questo giochino si è ripetuto anche con il successivo sindaco, che era Leonardo Vecchio. 2012, mi sembra, è successo nel 2012. Nel 2013 ci sono state nuove elezioni, c'è una legge non scritta che dice, che chiameremo legge Marino così per divertirci, che Marino vintendo a Roma, che dice che il partito che esprime un sindaco, che viene disarcionato, generalmente non vince le elezioni successive. È molto difficile che vinca. Quindi il centrodestra, che era caduto in corsa, lasciava ampi spirali al centrosinistra. E così è stato, perché Betti ha vinto in scioltezza le elezioni amministrative del 2013, e anche lui aveva una larga maggioranza. Se non che lui ha fatto lo stesso tragitto di Lunardini, però mentre Lunardini ci ha messo 4 anni, lui ci ha messo poco più di un anno, e appunto nell'ottobre, mi pare, del 2014, si sono dimessi 13 consiglieri, quindi la maggioranza dei 24, e il buon Betti è andato a casa anche lui. Questo non per dire che bisogna difendere Lunardini, questo non c'entra niente, questa è un'osservazione obiettiva. Cioè i sindaci vincono le elezioni, anche con ampi margini, e poi non mantengono, non riescono a finire il mandato. Questo è quello che è successo per ben due volte. Quindi prima abbiamo avuto il commissario Mannino, poi abbiamo avuto il commissario Valerio Massimo Romeo, e poi un po' il discorso a parte, merita un discorso a parte l'ultimo tentativo del Ghingro, perché è un po' diverso, che va analizzato. Qui volevo solo dire, e poi magari mi fermo e poi riprendiamo, se no diventa troppo lungo. Volevo solo dire che per alcuni, per molti, le difficoltà del Comune, quindi le difficoltà finanziarie, di bilancio del Comune, che poi hanno portato al dissesto, sono cominciate con la gestione Marcucci. Marcucci ha scritto molto per dimostrare che questo non era vero. Ora qui non è il caso di andare a analizzarvi, qui ci vorrebbe un'intera trasmissione, e degli esperti di diritto amministrativo e di bilancio, eccetera, per dire se è vero o no. Sicuramente c'è un percorso, che comincia con Marcucci, prosegue con Lunardini, e si completa con il Betti, al termine del quale il Comune va in dissesto, quindi fa fallimento, e quindi si apre un nuovo scenario. E di questo ne riparliamo subito dopo. Un altro scenario, invece, che si è aperto a Camaiore, è quello relativo alla chiamata, da parte del Vescovo di Lucca, del priore molto amato a Camaiore. Sabato sera, nel corso di una cerimonia di inaugurazione di un giardino, siamo riusciti ad avvicinarlo. Sentiamo che cosa ci racconta. Ad accogliere Don Damiano, ormai in procinto di lasciare il prioreato di Camaiore, un cartello con su scritto resta con noi. L'abbraccio di centinaia di fedeli al parroco è avvenuto sabato sera, all'ora del tramonto al Camaiore, in occasione dell'inaugurazione del giardino pensile recintato, simbolo dell'Eden, ricco di roseti e agrughe. Un luogo bellissimo, dove regna la pace e fortemente voluto proprio da Don Damiano, insieme all'amministrazione del Dotto. L'ormai ex parroco, considerato che il 2 ottobre dovrà presentarsi alla chiesa di Segromigno, in provincia di Lucca, ha tagliato il nastro tricolore dall'ingresso di via delle Monache, pochi attimi dopo che il sindaco lo aveva fatto dall'ingresso di via Oberdan. Ora raggiungere il centro storico della città sarà più semplice, ha detto Don Damiano, che è rimasto a conversare a lungo con Del Dotto e l'architetto Maurizio Bruschi che lo ha realizzato con Chiara Celli per le essenze erboree. Qualche domanda al parroco, che tanto ha fatto per la sua comunità religiosa, era d'obbligo e Don Damiano ha risposto. La volontà del Signore chiede questo e io obbedisco con gioia, con speranza, con fiducia. Il Signore saprà guidarci, guiderà il camaiore, guiderà me dove vuole. Io ho promesso fedeltà al Signore e quindi mi fido. I suoi fedeli vogliono che rimanga qua giù? No, le capisco, anche perché poi la situazione della diocesi non prevede subito nell'immediatezza un cambio, per cui rimangono un po' ancora nell'incertezza, però purtroppo la diocesi è tanta grande, le necessità sono grandi, tante, e la Civesco dice c'è bisogno al di là dei monti. È stata spontanea la lettera che lei ha scritto alla stampa l'altro ieri? Sì, sì, siamo a un'altra dei birbanti. Il priore come detto lascerà Camaiore il 2 ottobre e la veglia di preghiera si terrà mercoledì 28 settembre. Intanto gli abitanti di Camaiore continuano a firmare affinché Don Damiano resti alla guida della chiesa locale. La delicata vicenda nel frattempo è già arrivata in Vaticano. E vedremo quello che succederà. Umberto, che cosa ne pensi di questa scelta della curia lucchese di richiamare il parroco tanto amato a Camaiore? Ma non saprei che dirti perché non avendo la palla di vetro non so cosa abbia mosso il vescovo avrà avuto le sue ragioni a fare questo trasferimento che comunque è molto in viso alla popolazione perché Don Damiano è un ottimo prelato che io conosco quando era qui a Massaroda in una frazione di Massaroda insomma è sempre stato attivo e molto amato e quindi non saprei dirti cosa dirti sicuramente vige la regola dell'obbedienza e quindi senti cosa dice Don Damiano dice dove mi comandano io vado questa è un po' la superiorità dell'istituto della Chiesa che ha 2000 anni ma non li dimostra che è molto gerarchico e quindi poi vedremo questa protesta se porterà qualche cosa certo una notizia che arriva da Pietrasanta sit in pacifico ieri a favore dell'accoglienza dei migranti in piazza Duomo a Pietrasanta circa un centinaio di persone secondo gli organizzatori si sono ritrovate in via di mezzo nella piazza centrale intorno alle 18 per manifestare a favore dei profughi esiste una sola razza quella umana è stato questo lo slogan dell'iniziativa definita partitica dagli stessi promotori è la risposta alla decisione presa dal consiglio comunale di Pietrasanta che giovedì scorso ha approvato la mozione del sindaco Maldegni che rifiuta l'arrivo dei migranti a Pietrasanta una manifestazione come vediamo nelle immagini nel segno della pace contro ogni forma di razzismo come spiegato dagli attivisti al megafono queste immagini sono state pubblicate su facebook sulla pagina Pietrasanta reporter Umberto abbiamo visto quello che è successo a Pietrasanta torniamo però a parlare di Viareggio dunque Marcucci due sindaci che vengono mandati a casa anzitempo arriva un sindaco lucchese Viareggio non aveva una personalità di spicco da presentarsi per le elezioni e fargli governare la città Evidentemente no verrebbe da dire perché per la regola Marino che abbiamo detto prima cioè il partito che perde il comune difficilmente lo riconquista alle elezioni al turno elettorale successivo il PD aveva molte difficoltà a vincere le ultime elezioni dell'anno scorso del 2015 perché il PD aveva fatto una magra figura con il pensionamento anticipato di Betti al quale sono state attribuite è una mia opinione personale non pretendo delle colpe anche eccessive rispetto a quelle che gli sono imputabili perché dopo tutto Betti non ha fatto altro che certificare un po' torto collo perché lui sperava di riuscire a recuperare in qualche modo di certificare lo stato di dissesto del comune quindi il medico che dice il paziente è morto non può essere incolpato a meno che non sia stato lui a provocare la morte ma lui aveva avuto così poco tempo quindi sembrava una situazione ideale per il Movimento 5 Stelle nel 2015 perché il centrodestra aveva fatto male il centrosinistra aveva fatto male e quindi a questo punto toccava al Movimento 5 Stelle uno avrebbe detto in realtà però c'è un dato particolare qui a Viareggio che il Movimento 5 Stelle non si schioda da un dato che va intorno al 10% e non sono riusciti al di là della rispettabilità assoluta dei loro candidati a trovare dei candidati che potessero in qualche modo ambire a battersi a essere concorrenziali quindi non sono mai arrivati al ballottaggio quindi il Movimento 5 Stelle almeno per il momento a Viareggio è fuori gioco non può ambire a conquistare il comune come è successo a Livorno come è successo a Torino come è successo a Roma e allora che succede allora arriva un piccolo capolavoro politico che è il capolavoro politico di Del Ghingero che è molto abile come amministratore che è quello di intercettare una buona parte di voti del PD anche di quelli scontenti ma contemporaneamente prendere anche i voti degli nemici arcinemici del PD e questo se mi permetti è un capolavoro perché se guardi la sua maggioranza vedrai che ci sono pezzi del PD pezzi ribelli se vogliamo però ci sono anche tante forze politiche che contro il PD hanno avuto una polemica feroce e lui è riuscito ti interrompo Umberto perché voglio riprendere questo discorso per analizzarlo meglio un breve spazio pubblicitario Linea Allergia eccoci nuovamente in studio in diretta con noi ospite Umberto Guidi giornalista del quotidiano La Nazione e un attento osservatore delle vicende politiche non soltanto di Viareggio dell'intera Versilia però prima parlavamo di Viareggio e di questo capolavoro politico fatto da Giorgio Del Ghingaro si diceva che nel 2015 avevamo un centro destra che aveva fallito un centro sinistra che aveva fallito il comune in dissesto e quindi sembrava il momento dei 5 stelle in realtà i 5 stelle scontano una debolezza particolare a Viareggio non sono arrivati al ballottaggio e quindi qui si inserisce il piccolo capolavoro politico di Del Ghingaro che si diceva prima prende voti sia filo PD che anche TPD e questo lo fa sulla base di un istituto politico la sua operazione sembra ispirata a un istituto politico che ha origini addirittura medievali direi ma come siamo nel 2000 sì perché nell'epoca dei comuni quindi si parla del XII secolo che era un'epoca particolarmente litigiana viareggiosa dove il tessuto delle città-stato Firenze insomma questi comuni che hanno fatto la storia del Medioevo in Italia e non solo anche in Europa erano dilaniate da lotte intestine non so se ti viene in mente nulla se questo ti suggerisce qualcosa sul viareggio allora che succede? venne istituita la figura del podestà forestiero chi era il podestà forestiero? il podestà forestiero era un politico di professione che doveva necessariamente venire da fuori città questo perché? perché venendo da fuori città era estraneo alle lotte non apparteneva a questo a quella famiglia e quindi dava garanzie maggiori di imparzialità io credo che ecco in molti diciamo anche senza sapere la storia delle dottrine politiche in molti abbiano intuito questa cosa e quindi abbiano pensato che uno venuto da fuori potesse avere magari anche il polso necessario per governare una città difficile e riottosa come viareggio quindi abbiamo avuto il nostro podestà forestiero che apri accreditato da un buon governo a Capannori anche se Capannori è un comune molto meno problematico di viareggio basti pensare che è un comune che ha molti meno abitanti non ha niente che possa ricordare insomma manifestazioni come il carnevale di viareggio il pucciniano oppure il porto insomma ci sono dei problemini un pochino più complicati a viareggio però però Del Ghingro si accredita come l'uomo che può traghettare viareggio verso la salvezza e quindi vince le elezioni a questo punto si deve vedere se questa maggioranza che lui ha messo insieme tiene è capace di fare tutto il percorso del mandato amministrativo oppure se perderà dei pezzi per la verità qualche pezzetto lo perde anche se ci sono aspetti un po' particolari che vanno precisati per esempio due dei consiglieri più votati della sua coalizione che sono Stefano Pasquinucci e Luigi Troiso si distaccano dai relativi gruppi consigliari e vanno negli indipendenti quindi sarebbero due voti tendenzialmente persi ora bisogna vedere se la loro critica si spingerebbe fino al punto un domani se ci fossero i numeri a dare le dimissioni questo non lo so non credo per ora però sicuramente qualche scricchiolio questa maggioranza che però sulla carta sembra molto più forte sia della maggioranza molto più coesa sia ben che eterogenea perché è molto eterogenea però sembra più coesa sia di quella di Lunardini che di quella di Betti e quindi però in realtà non si può sapere perché a sorpresa arriva la sentenza del Tar che annulla le elezioni se ne riparla subito dopo andiamo ora per un attimo con un'altra notizia parliamo del degrado al cimitero di Querceta c'è un esposto del gruppo dei Cinque Stelle l'area critica del cimitero comunale è quella lato mare loculi aperti usati come ripostiglio cavi elettrici lo vediamo nelle immagini penzolanti pulizia insufficiente soprattutto cattivi odori emanati dai loculi nelle strutture lato monte nella parte semi interrata oltre a crepe e muffa ci sono frequenti allagamenti con acqua che gocciola dai loculi stessi una situazione indecente trascurata da anni dai sindaci neri e Tarabella denuncia il movimento Cinque Stelle di Seravezza che ha scattato foto e girato video per documentare la situazione inviando il tutto con un esposto alla ASL e ad ARPAT oltre che al prefetto di Lucca ancora notizia di cronaca ladri in azione nella zona industriale di via di Montramito le notte scorsa i gnoti sono entrati nell'emporio Fantasy Market dove hanno portato via il fondo cassa nelle macchinette del caffè altro furto sempre nella zona in via delle cannelle al distributore accessori di auto del Peugeot anche in questo caso hanno preso di mira il fondo cassa delle macchinette di caffè e di bibite un altro servizio ora inaugurato a Camaiore il giardino murato di San Francesco vediamo il servizio tanta gente ha partecipato sabato pomeriggio alla inaugurazione del giardino murato San Francesco in via 4 novembre a Camaiore il giardino la cui entrata è posizionata davanti all'ingresso del civico museo archeologico prevede anche un ingresso da viale Oberdan così da aprire un varco continuativo tra il centro storico e l'area circostante comprensiva di parcheggi il progetto ha permesso la riqualificazione del giardino facente parte del complesso di proprietà pubblica costituito dalla casa di riposo di San Francesco adiacente alla piazza francigena con la finalità di ristabilire le connessioni con il tessuto circostante e consentire la fruizione degli spazi a verde come luogo di riposo di svago e di incontro tra cittadini e come luogo per attività espositive nel nuovo giardino è stata installata una spalliera di aranci e limoni la realizzazione di un tappeto erboso e l'allestimento di una pergola con rose e vite ecco un altro pezzo del nuovo rinascimento di camaiore ha dichiarato il sindaco Alessandro Del Dotto non sarà solo uno spazio nel quale potranno rimanere le persone quindi uno spazio come dire ancora uno spazio verde tra le mura della città ma sarà uno spazio nel quale poi creeremo anche dei piccoli eventi di carattere culturale voglio ricordare che questo spazio si collega al nuovo museo archeologico di camaiore ed è uno spazio che camaiore riscopre noi l'abbiamo chiamato il giardino di San Francesco perché qui accanto c'è l'istituto San Francesco che accoglie con la parrocchia grazie alla volontà di Don Damiano gli anziani e le persone che hanno bisogno di un tetto il progetto è stato realizzato dall'architetto Maurizio Bruschi responsabile dell'ufficio opere strategiche del comune di camaiore coagliuvato dall'architetto Manuele Ricomeni e dall'ingegner Simone Pasquali mentre il progetto Orto Giardino è stato sviluppato dall'architetto Chiara Celli eccoci di nuovo in studio parlavamo poco fa prima del servizio sull'inaugurazione del giardino pensile di camaiore della vicenda di Giorgio del Ghingolo mi dicevi poco fa che si chiamava il podestà forestiero però in quella circostanza il podestà veniva indicato da tutti quanti che si trovavano d'accordo nel caso di Del Ghingolo però non è così questo è un punto di differenza ecco rispetto all'istituzione all'istituto medievale nel medievo le varie parti si accordavano su un nome che stesse bene a tutti qui lui è stato chiamato da una fazione e contro il PD ufficiale insomma e naturalmente anche il centrodestra ovviamente l'ha combattuto centrodestra che non ha vinto perché si è presentato diviso e quindi chi si presenta diviso generalmente perde si è presentato diviso con due candidati entrambi buoni Massimiliano Valdini e uno Alessandro Santini che però hanno un po' disperso Lega Nord quindi più centrodestra più tradizionale ma questa è una divagazione qui nel caso di Del Ghingolo ci sta quell'osservazione che fa Machiavelli nel Principe che dice che quelli sconfitti insomma le parti minori le parti minoritarie in una certa città tendono ad appoggiarsi al potente che viene da fuori per cacciare quelli che hanno dominato finora ecco qui è più il modello diciamo Machiavelli se vogliamo ma stiamo scherzando si cerca di dare un po' una lettura di quello che è successo comunque dicevo che personalmente accrediterei avrei accreditato alla maggioranza di Del Ghingaro una coesione maggiore anche se qualche segnale di scricchiolio c'era vedi Troiso vedi Pasquinucci quindi tutto sommato probabilmente avrebbero durato non so se dirti cinque anni perché con Viareggio non si può mai sapere però poi arriva a sorpresa questa cosa perché a sorpresa perché tutti pensavano la maggior parte di osservatori pensavano che se avessero accolto la richiesta del Massimilio del Ricorrente Baldini che legittimamente sia chiaro perché tutto questo avviene in punto di diritto ha chiesto una verifica si pensava che sarebbero state ripetute le elezioni in uno o due seggi non si capiva bene e invece un po' a sorpresa è arrivato all'annullamento totale quindi scioglimento del Consiglio Comunale e tre e arrivo di un nuovo commissario il terzo nella persona di Stelo Fabrizio Stelo ecco questo è stato uno shock diciamo perché tutto per il sindaco che aveva vinto indubbiamente la vittoria di Gingaro è stata netta e non è in discussione perché non è che le irregolarità che ci sono state possono ribaltare all'atto pratico il risultato del ballottaggio però possono in virtù di problemi formali e tu sai che nel diritto la forma è anche sostanza è in sostanza imprescindibile possono effettivamente come si è visto portare all'annullamento delle elezioni a questo punto ora la parola è al Consiglio di Stato che deciderà entro il 20 ottobre ha respinto la richiesta di sospensiva lì qualcuno si è esercitato io non mi eserciterei in previsioni aspetterei semplicemente il 20 ottobre che tanto non ci vuole molto a te arriverà questa decisione nel merito finalmente e sapremo se del Ghingero legittimamente può riprendere potrà riprendere il suo posto di sindaco di Viareggio regolarmente eletto oppure se le elezioni saranno annullate definitivamente e quindi avremo un periodo ancora con il dottor Stelo a fare da commissario prefettizio ormai ci siamo abituati e poi nuove elezioni il prossimo anno allora ti interrompo perché poi chiamiamo un servizio e poi dopo riprendiamo prendiamo una chiusura per lo sport il centro giovani calciatori vince in un amichevole ha battuto 4-1 il Sarzano a sabato prossimo via invece al campionato con le zebre di scena a Trissino e naturalmente trattandosi di una trasferta ci sarà la diretta di Rete Versilia non è andata bene neanche al blasonato forte dei marmi o che che ha perso la coppa importante vediamo il servizio non abbiamo il servizio su questo allora diamo semplicemente la lettura di quello che è successo niente da fare la supercoppa italiana sfugge ancora una volta nelle mani del Forte dei Marmi e va per la prima volta nella teca dell'Odi è finita 5-4 per i Lombardi protagonisti di una bella rimonta sabato sera al palaforte di Vittoria Juana gremito da un migliaio di persone per questa prima gara stagionale casalinga dei campioni d'Italia e allora mancano due minuti alla chiusura della nostra trasmissione andiamo a concludere su questa vicenda e sulle prospettive per la città di Viareggio sì il prospettive è difficile dirlo noto che De Ghinger è caduto per una piccola nemesi storica se vogliamo una piccola vendetta della storia cioè lui è venuto a Viareggio per le insufficienze dello spirito di Viareggio perché Viareggio non è in grado neanche di esprimere un sindaco di esprimere una classe politica sufficientemente idonea e quindi però queste stesse insufficienze l'hanno fatto cadere perché non solo noi siamo pessimi lo dico da Viareggio addolorato noi siamo pessimi perché siamo una città che va in dissesto siamo una città che non sa esprimere una classe dirigente propria e quindi lo deve importare da capannori e non sappiamo infine neanche garantire elezioni regolari e quando dico irregolari non sto dicendo che ci sono stati dei brogli io non ho nessuna prova però io credo avendo fatto per molti anni il presidente anche di sedio quindi sapendo come funziona più o meno lo spoglio anche con le nuove leggi eccetera io direi che qui siamo di fronte a disattenzioni e superficialità che però possono effettivamente far annullare le elezioni perché la sparizione di oltre 600 schede non è una cosa che possa essere presa sotto gamba ed è del tutto irrilevante l'argomento secondo il quale queste schede non potevano cambiare o sovvertire l'esito delle elezioni perché se quando la forma è talmente vistosa quando il difetto è talmente vistoso quindi può darsi che il Consiglio di Stato riformi la sentenza del Tar e allora magari del Ghingaro può darsi che ci facciano ripetere le elezioni in uno o due però io sinceramente non saprei cosa dire vorrei concludere perché vedo che vorrei che qualunque sia la decisione del Consiglio di Stato vorrei che le varie parti l'accogliessero con tranquillità cioè i del Ghingariani se del Ghingaro va a casa stiano calmi le anti del Ghingariani se del Ghingaro viene confermato sindaco stiano calmi ho tanta paura che non sarà così io ringrazio molto Umberto Guidi nostro primo ospite per questa trasmissione che ha debuttato oggi nella nuova veste grafica e scenografica del nostro telegiornale l'appuntamento come sempre alle 18.25 prima edizione del telegiornale buon presentimento di giornata arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.